Notte di ballo e di sogni e di grande solidarietà all'hotel San Regis che ha fatto da cornice fatata la terza edizione dell'evento di successo Ballando con il cuore dedicato alla raccolta fondi contro la SLA a sostegno della fondazione Stefano Borgonovo Ospite d'onore e madrina della serata Chantal Borgonovo, la moglie del campione Stefano deceduto proprio a causa della SLA Siamo tutti molto emozionati, ora i personaggi VIP, tutti dei personaggi noti della città di Firenze, ognuno nel proprio ambito Ognuno sta ballando assieme a un professionista, questo è ballando con il cuore, è già iniziato, in questo momento mancano gli ultimi due balli Prima che il pubblico incomincia a scegliere appunto il proprio favorito, tutti le persone del pubblico c'era una scheda per scegliere il proprio preferito La persona che le è piaciuta di più, questo è un momento in cui siamo tutti molto emozionati Questo evento si chiama Ballando con il cuore e lo facciamo a sostegno della fondazione Stefano Borgonovo Ed organizzata dalla scuola di ballo Arthur Marri di Firenze, infatti tutti i professionisti siamo di questa scuola E lo facciamo assieme all'ENIC, Meeting and Events, per organizzare questa serata straordinaria Grazie 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 a tutti